ciao a tutti allora oggi video dei top del mese di maggio 2018 allora se sentono dei rumori è che c'è un leggero venticello è sarcastico sta volando più o meno via tutto la primavera non si vede ma iniziamo con i top che è meglio allora il primo top di cui vi voglio parlare eccolo qui è questa crema mani della Evelyn dice di essere una crema mani idratante all'essenza di pappa reale della parisienne che è un made in italy allora questa crema è un prodotto low cost 150 ml di prodotto io l'ho trovata in offerta a un euro la parisienne è un made in italy ok e poi ho notato che la parisienne italia è quella anche che fa quel solvente per le unghie flaconcino classico con il tappino che costa una cavolata ma è ottimo anche quello allora crema mani questa è perfetta per tutti i giorni trovo che intanto si applica benissimo si assorbe immediatamente basta poco prodotto ha un profumo se non ricordo male esatto c'è ancora un pochino ha un profumo che abbastanza delicato ma non persiste sulle mani ha un potere idratante medio quindi la utilizzo tranquillamente più volte durante il giorno perché davvero assorbe immediatamente e poi anche alla sera se non ho bisogno di particolare nutrimento comunque idrata bene è un prodotto davvero low cost che appena trovo in offerta sicuramente ricompro secondo top e andando verso il periodo estivo può essere un prodotto da provare è questa crema fruida idratante per il corpo della delidea happy hour lime anche questa l'ho trovata in offerta e perché l'ho presa un euro un euro 50 ma ho segnato il prezzo che per 150 ml e di 3 euro e 99 allora questo qui il prodotto la delidea è un marchio completamente biologico e questa sicuramente è una buona cosa e poi è fatta in italia altra cosa molto positiva questa crema fluida cosa dire il profumo è freschissimo si esatto sa proprio di lime quindi la trovo davvero perfetta per l'estate perché è fresca quando non vogliamo avere creme troppo pesante sul corpo cosa negativa però è che è fluida si ma lascia scia bianca quindi la applichiamo e lascia una bella scia bianca dove l'applichiamo e dobbiamo andarla a massaggiare per farla scomparire però attenzione perché ho detto che è perfetta per l'estate quindi assorbe molto velocemente e noi restiamo con le scie bianche dove la crema è già assorbita quindi non applichiamola prima di uscire immediatamente perché potremmo avere qualche scia bianca in giro che dobbiamo andare a passare detto questo comunque un prodotto con un buon inci una buona profumazione e oltretutto assorbe velocemente certo bisogna stare un attimo attenti a questo problema di scia che poi è una cavolata perché si vede davvero che è facilissimo ad applicare più facile farlo che dirlo comunque io l'ho provata ok non la ricompro perché ne provo altre e il profumo non persiste sulla pelle anche se comunque è buono peccato che non persiste comunque ok basta direi che vi ho detto tutto l'essenziale se volete provarla magari in offerta ultimo top per questo mese è questo deodorante in stick della neutro roberts questo si chiama invisible zero macchie antimacchie con zero sali di alluminio e l'ho preso in offerta quindi un euro e 50 comunque ho segnato il prezzo che per 40 ml di prodotto è di 3 euro e 90 allora io sono sempre la cerca di deodoranti che non lascia le macchie perché è una cosa antipatica questo devo dire che mantiene davvero le promesse questo qui mantiene davvero le promesse perché non lascia macchie dopo l'applicazione perché assorbe da dove applichiamolo assorbe talmente velocemente che ci andiamo a vestire e non lascia quelle anti estetiche righe poi durante la giornata non lascia gli aloni né sugli abiti scuri né su quelli chiari l'ho iniziata a provare a fine inverno e l'ho finito adesso quindi anche primavera inoltrata che è proprio finito non ce n'è più anche primavera inoltrata tranquillamente non ha creato problemi quindi mi è piaciuto oltretutto il profumo è fresco ma non persiste sulla pelle e non si sente più dice di durare 48 ore vabbè io una giornata senza una sciacquata non la passo però comunque sia dura tranquillamente fino a sera è un prodotto che mi è piaciuto davvero tanto promette di essere antimacchia e davvero è antimacchia e sicuramente per l'estate ma anche per tutti i giorni è un valido alleato allora questi erano tutti i top del mese di maggio 2018 fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate io vedo adesso dallo schermino che c'è quest'antestetico a riflesso mi sa dalla finestra bene proprio sulla bocca va bene intanto ci spostiamo poi cambierò spero come sempre di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella che è gratuito così riceverete una comoda notifica ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao